Sarà Eugenio Coccia il primo rettore della nuova scuola universitaria superiore Gran Sasso Science Institute dell'Aquila che ormai è diventata a tutti gli effetti la seconda università del capoluogo. La nomina, annunciata da giorni, è stata ufficializzata ieri ed è solo la prima di una serie che vedrà il GSI completare gli organi con un direttore generale, il consiglio d'amministrazione e il senato accademico. Coccia, 60 anni, già direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 2003 al 2009 ha guidato come direttore lo stesso Gran Sasso Science Institute nel triennio sperimentale dell'istituto attivato all'Aquila nel 2013. Il nero rettore comincerà il suo mandato dopo il decreto di nomina da parte del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca Stefania Giannini. Per il decano del Senato accademico e dei docenti del GSI, il professore Sergio Petrera, l'elezione è il risultato più atteso da tutta la comunità, dal più giovane allievo al professor Carlo Rubbia e il coronamento di un percorso in cui il nuovo eletto ha profuso tutte le sue energie.